Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui finalmente per il pagellone delle squadre di Premier League E anche per questo pagellone ho deciso di fare il tutto con una tier list Perché rende il lavoro per me molto più semplice e a voi rende tutto molto più intuitivo Prima di iniziare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale E attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti che usciranno su questo canale Lasciate lecca a questo video perché se raggiungiamo esattamente i 40 mi piace Uscirà, vendo, tengo o mando in prestito versione Manchester United e non solo Ci sono delle piccole sorpresine per quest'estate Preparatevi perché questo canale farà grandi cose quest'estate Come potete vedere questa è la tier list abbiamo voto 4 Che è il voto più basso da dare ad una squadra perché credo che sotto al 4 si vada un po' sul ridicolo Quindi ho deciso di dare il 4 come voto più basso Poi 5, 7 e 6 Ovviamente vi spiegherò quale per me sarà da 6, quale per me sarà da 7 Poi 8, 9 e 10 che è il voto più alto Voglio precisare questa cosa, non si andrà a valutare solo e unicamente il percorso fatto in Premier League Perché se no così sarebbe troppo semplice Si va a valutare anche il percorso fatto nelle coppe nazionali e soprattutto in Europa Per le squadre che hanno disputato le competizioni europee Quindi partiamo subito in maniera molto randomica Mi vado a prendere il Southenton Squadra che è retrocessa Squadra che non ha dimostrato praticamente nulla in campionato A parte contro di noi Le restanti partite le ha giocate proprio senza voglia, senza grinta Si ha fatto qualche punto perché è veramente difficile concludere la stagione dopo 38 partite e fare 0 punti Ovvio che qualche punto qua e là l'ha strappato soprattutto a noi Ripeto, però la stagione è stata fallimentare Fallimentare ma non è perché ci si aspettava un Southenton che potesse rimanere in Premier Perché io ero uno dei primi a dire che per me il Southenton non rimaneva in Premier quest'anno Mi è dispiaciuto, più che mi è dispiaciuto vi voglio dare un voto così basso Perché proprio non ci hanno provato Perché tecnicamente il Southenton ha dei giocatori forti Ha dei singoli importanti Ma le scelte quest'anno da parte del Southenton sono state tutte sbagliate Dal calciomercato alla scelta dell'allenatore ai giocatori scesi in campo Quindi veramente voto 4, stagione pessima Andiamo avanti Ragazzi se mi vedete guardare sotto è perché ho la classifica Perché non mi vado a ricordare tutte le posizioni di tutte le squadre Mi ricordo la loro stagione ma non mi ricordo se uno è finita decima, dodicesima, tredicesima Quindi per non sbagliare ho sotto la tabella così che facciamo un lavoro perfetto Andiamo sul Palace ragazzi per cambiare Facciamo un po' di quelle che sono finite sopra e di quelle che sono finite sotto Palace che ha concluso la stagione come undicesima Coppe nazionali non ci si aspettava tutto questo granché E infatti loro non hanno fatto un granché a livello di percorso Palace che però ha dimostrato grandi cose soprattutto nella seconda parte di stagione Soprattutto quando Patrick Vieira ha abbandonato la barca Il Palace ha cresciuto gente come l'Isè quest'anno come l'Isè Perderà, ormai ha perso, za a zero ma ha fatto una bellissima stagione Quindi per me il Palace si merita un bel 7 È una bella stagione quella del Palace che è stato quasi sempre tranquillo nelle zone alte della classifica Non so se l'ho detto ha concluso la stagione come undicesimo Quindi va più che bene Adesso andiamo avanti con ragazzi il Wolverhampton Wolverhampton che conclude la stagione al tredicesimo posto Anche questa squadra Coppe europee non le ha giocate Coppe nazionali ci ha provato ma ha lasciato proprio perdere L'obiettivo del Wolverhampton quest'anno era di salvarsi Perché la situazione non è facile Il Wolverhampton io dopo le tre che sono scese Nemmeno le tre che sono scese Diciamola così Il Wolverhampton io la reputo tecnicamente una delle squadre più scarse che Milita in Premier League Quindi assolutamente quest'estate il Wolverhampton deve investire dei soldi per Lopeteghi Perché ha dei limiti tecnici disarmanti Questa squadra fa acqua da tutte le parti Però bisogna dire la verità La prima parte di stagione è stata pessima Poi è arrivato Lopeteghi nella seconda parte di stagione Hanno fatto un bellissimo lavoro soprattutto in casa Wolverhampton che per me quindi in media si va a prendere un bel 6 politico Perché si salva Perché fa il suo Perché comunque sia adesso Andrà avanti con un progetto sicuramente molto più sicuro E molto più forte De quello che c'era già possiamo dire un paio di mesi fa Quindi scelte per me azzeccatissime Wolverhampton che quindi si merita un bel 6 Passiamo avanti Andiamo al grandissimo Burnout Che per me ragazzi merita Una menzione d'onore Perché questa squadra era una di quelle Che si dava per spacciata Dai ragazzi Parliamoci in maniera molto chiara Io ero uno di quelli Che dava per spacciata questa squadra Perché tecnicamente per me questa è la squadra più scarsa Insieme al Southendon E il Leeds Era una squadra che nessuno si aspettava Una stagione del genere E invece ragazzi fa il suo Se salva Non dico in maniera tranquilla Perché comunque se ci sono stati dei momenti Dove dicevi oddio Mi sa che questi non si salvano Però alla fine hanno preso i punticini Che gli servivano Sono riusciti nella loro impresa Perché questa è un'impresa per me Quindi un bel 8 Se lo prendono tutto Dopo Uno mi potigliarne esageri Esagero se non conoscete la Premier League Per voi Se voi pensate che io stia esagerando Dando l'8 A questa squadra È perché non conoscete la Premier Non conoscete il tasso tecnico Che c'è in Premier League E il livello tecnico Che ha questa squadra Non era per niente facile fare la stagione Che hanno fatto Quindi l'8 Se lo prende tutto Ora passiamo al West Ham Il West Ham è un po' complicato Perché? Perché il West Ham decide Di non giocare la Premier League Perché lo decidono ragazzi Il West Ham prende Questa scelta Prende la scelta Di abbandonare la Premier League Per un tot di settimane Per un tot di mesi Per puntare alla Conference League L'obiettivo L'hanno raggiunto Io non sono uno di quelli Che appoggia queste scelte qua Cioè l'allenatore I giocatori La società Devono puntare Su tutte le competizioni A disposizione Devono dare il massimo Ovviamente il West Ham Non è che l'obiettivo era Vince la Premier Però almeno era De qualificasse in Europa League O perlomeno provarci West Ham ha fatto questa scelta Che però Ha ribagato Perché adesso vanno In Europa League Con la vittoria della Conference Testa di serie Si sono salvati E quindi Non si può Non da setta A questa squadra Anche perché Si sono portati a casa Un trofeo Quindi West Ham Che si prende Un bel sette Strameritato Perché hanno avuto ragione Loro Hanno avuto Ragione loro Proseguiamo adesso Con il Leicester Tanto amata Dalla maggior parte Gli italiani Tanto odiata da me Ho spiegato molte volte Perché per me Il Leicester È una di quelle squadre Che odio di più Dà fastidio Allo United È una squadra Che va avanti Negli ultimi anni Con l'eredità Di quello che hanno fatto Stagioni passate Un Leicester Che quest'anno Era in procinto Alla retrocessione Se si seguiva Un minimo La Premier League Negli anni passati Se si è seguita La Premier League Negli anni passati Si poteva già Intuire Che prima o poi L'Eicester Crollava Crollava perché Tielemans In scadenza Di contratto Non venduto Madison Voleva rimanere E poi non voleva rimanere Una situazione Anche lì Problematica Vardi Troppo vecchio Mai sostituito Con un vero giocatore Tante uscite Inutili Giocatori che sono andati via In maniera inutile Giocatori che sono entrati Che non si sa Perché stanno lì Tipo Fares Il difensore più scarso Della Premier League Lo dissi Quando è arrivato E l'ha dimostrato Cappella dopo cappella L'Eicester che per me Prende il voto più basso Di questa Premier League Quindi l'Eicester Che si prende Il 4 Il 4 non solo Perché ha retrocessa Ma proprio per tutto Quello che hanno fatto Per come hanno gestito Come ho detto prima Per come hanno gestito Gli acquisti Per come hanno gestito Le gestioni Tutto Una stagione Una stagione fallimentare Che si è conclusa Nel modo in cui Si doveva concludere Perché questa squadra Era diventata Una Bruttezza incredibile Veramente Faceva schifo E dell'Eicester Era diventata Un qualcosa di orribile E forse questa Badosta Questa retrocessione Darà al presidente Dell'Eicester Una svegliata Perché non puoi gestire In questa maniera Un team del genere Che dopo Gli avvenimenti successi Dopo la vittoria Della Premier League Dopo la vittoria Di determinati titoli Questa squadra È andata impicchiata In fondo E quindi era giusto Che retrocedeva Proseguiamo Proseguiamo con l'Everton Squadra che mi sta Molto simpatica Finita a diciassettesima C'è poco da dire ragazzi Allora D'Ocure Iobi Carvet Lewin Ve ne potrei sparare Una marea Pickford Una marea Di giocatori fortissimi Forse Fortissimi Non è il termine Più giusto Però giocatori Tecnici Giocatori forti Pickford È un portiere Pazzo Folle Non lo prenderei mai Per il Manchester United Al momento Ma è forte ragazzi È uno dei migliori In Inghilterra D'Ocure È uno dei migliori Centrocampisti Che c'è in Inghilterra E quest'anno L'ha dimostrato Infatti per me È l'unico Che si salva In mezzo a tutta la Bolgia E Iobi Pure lui si salva Però a livello generale L'Everton Doveva fare di più Doveva fare assolutamente più Ok non ci si aspettava La stagione da conferenze Non ci si aspettava La stagione d'Europa League Perché comunque sia Anche Nell'Everton Parliamo di una squadra Completamente allo sbanno Una società Che non guarda più niente Una squadra Che compra Cento a caso Vende cento a caso Non c'è un progetto Non c'è una realtà È andato via Richarlison Non è mai stato Realmente sostituito È andato via Gordon Non è stato mai Realmente sostituito Cioè Ragazzi Parliamoci in maniera Molto chiara L'Everton è gestito male Ma per me ragazzi Doveva fare di più Io gli do 5 Gli do 5 Perché si è salvato Perché se no Meritava 4 Se non si salvava Gli do 5 Perché alla fine Tra tutta la confusione Tra tutti i macelli Sono riusciti Nell'intento De salvasse Perché poi Alla fine della stagione L'obiettivo era diventato quello Possiamo proseguire Con il Tottenham Questa è la prima Big Della Premier League Perché per me Lo sapete Le big sono Chelsea Arsenal City Liverpool Manchester United Tottenham E ci metto quest'anno Anche il Newcastle Quindi Tottenham Che è la prima big Big che delude Delude le aspettative Per colpa del presidente Levy Che fa degli acquisti Non hanno senso Delude Per l'arroganza Il non saper gestire Le situazioni brutte Di Antonio Conte Delude Anche Per Il contesto Giocatori Perché Il Tottenham Ha Un reparto Difensivo Imbarazzante Se l'anno scorso Lo United Gli si potrebbe dire qualcosa Nel reparto difensivo Più di una cosa Al Tottenham Bisogna sparaglie Il reparto difensivo Fa ridere Romero Fa ridere Dier Fa ridere Lui l'unico Che salvo lì È Pietro Porro Perché poi quest'anno Non si è salvato Manco Ioris Pietro Porro È il migliore Che io pagherei Fior fior di milioni Per portarlo Al Manchester United Qualità Incredibile Il Tottenham Non merita la sufficienza Soprattutto per il declino Poi nelle ultime Nelle ultime partite Bisogna anche dire Che Il Tottenham È stato spinto Da Conte Conte Ha buttato Giù nel burrone Questa squadra Perché sappiamo Un po' Come è fatto Antonio Antonio è un allenatore Che nei momenti di difficoltà Fugge Fa le valice C'è parte Conte ha spinto La società A cacciarlo E ha lasciato Il Tottenham Completamente Allo sbando Ma questo Non è una scusante Per una squadra Che ha comprato Richarlison Se non ero A 60 milioni Ha preso L'Engle Ha preso Pedro Porro Bisuma Ha preso Gente di qualità Ma non Non è quindi Una stagione Sufficiente Gli do 5 Perché giustifico Quello che è successo Alla fine Per colpa De Antonio Conte Che abbandona La nave Andiamo avanti Con La Stonvilla La Stonvilla È veramente complicato Perché la Stonvilla Fa una prima parte Di stagione Orribile Prima parte Di stagione Orribile Seconda parte Di stagione Clamorosa Che la fa arrivare Settima In classifica Prima non ve l'ho detto Il Tottenham È arrivato Ottavo La fa arrivare Settima in classifica Però Ragazzi Io Sapete come sono fatto No? Ho sempre avuto Questo pensiero Anche nell'ambito Scolastico Quando tu vai a scuola Per me Non deve Il professore Non deve valutare Lo studente Con l'ultimo esame O con l'ultima verifica Lo studente Va valutato Per il percorso Che fa Durante L'anno scolastico La stessa cosa La Stonvilla Se io adesso Vado a prendere Il rendimento Della Stonvilla In questa stagione C'è stata Un'ottima seconda parte Possiamo dire Bellissima Ma una prima parte Orribile Che rientra Comunque sia Nella stagione Rientra Comunque sia Nelle scelte Perché Steve In panchina Non ce l'ho messo io Le scelte Non le ho fatte io Le ha fatte Chi comanda Quella squadra Qui c'è veramente Poco da dire Ha fatto una stagione Una seconda parte Di stagione Ripeto Favolosa Migliore Che quella Del Wolverhampton Ma ha fatto Una prima parte Di stagione Orribile Quindi ragazzi Io L'otto Glielo do Glielo do Perché se lo meritano Perché sono andati In Europa League Ma io vedo gente Nell'ambito premier In Inghilterra Che gli hanno dato 9-10 Esacerati Perché bisogna valutare Il blocco intero Della stagione Perché se no Così è troppo semplice Valutare solo La seconda parte Andiamo avanti Adesso con il Nottingham Forest Altra delusione Ragazzi Altra delusione Nottingham Forest Che conclude La stagione Vediamo un po' Sedicesimo Sedicesimo In classifica Allora ragazzi Quante aspettative Avevate Quest'estate Sul Nottingham Forest Tante Siate sinceri Tanti acquisti Prezzi folli Gipsy White Lingard Ve ne nomino due Perché sono quelli Che sono stati pagati Essenzialmente di più Perché Lingard È andato a zero Da loro E prende Mi pare Prendeva 7 milioni Se non sbaglio Per un anno De contratto C'è follia Una squadra Che ha speso tanto Ha reso poco Ricordiamoci anche Che ha avuto Navas Aveva due portieri De qualità incredibile Ederson e Navas Cioè Nottingham Per me Ha deluso Ha deluso Perché Quando è salito In Premier League Il suo obiettivo L'obiettivo Era quello di Rimanere in Premier Evitare la retrocessione Ma poi con tutti quegli acquisti Hanno alzato L'asticella E al saldo L'asticella Devi migliorare Il Nottingham Non c'è stato Ragazzi Si è salvato Sì per le ultime Battute del campionato Ma a livello generale Ragazzi Questa è una squadra Da 5 Sicuramente Meglio dell'Everton E sicuramente Meglio del Tottenham Ma Non si può salvare Non si può Dalla sufficienza A una squadra Che fa Questo campionato Qui Proseguiamo adesso Con il Liz E qui non commento Voto 4 Prestazione Stagionale Pessima Squadra Pessima Giocatori Orribili Cambi Allenatori Non si è capito Mai niente Squadra che non giocava A calcio Dall'inizio Non ha giocato A calcio Dall'inizio Fino alla fine Voto 4 A peggiore Adesso Andiamo con il Chelsea Allora io con il Chelsea Ho un Unpopular Opinion Ho un Unpopular Opinion Ma dovete ascoltarla bene Allora io al Chelsea Ovviamente do l'insufficienza Partiamo con questo presupposto Così che metto le mani avanti Avanti Chelsea Gli do l'insufficienza Ma gli do 5 Ovviamente La metto sotto al Tottenham Sotto all'Everton Sotto al Nottingham Forest Ma perché gli do solo 5 Se poi il ragionamento è Cacchio Iarno Hai dato 5 al Nottingham Per tutti i soldi spesi Do 5 Perché la base del Chelsea È stata smontata Quando noi valutiamo Una società Quando noi valutiamo una squadra Nel rendimento stagionale Dobbiamo anche valutare Quello che succede nei piani alti Perché quello che succede nei piani alti Poi viene riportato Giù Nei bassi fondi Dove ci sono L'allenatore I giocatori I fisioterapisti I lavoratori Il cambio di proprietà Ha portato a una scossa A un terremoto In casa Chelsea Un terremoto Che non dico che va a giustificare Le prestazioni Ma va un po' ad attappare Tutta quella merda Che è stata sparata a Chelsea Perché una squadra Che cambia proprietà L'avete vista in Italia La Juventus Che viene sì penalizzata La penalizzazione Ha sicuramente Pesato sulle spalle Dei giocatori della Juve Sull'allenatore Ma anche il cambio Radicale Con uno schiocco di dita Si passa da una società A un'altra A inizio stagione Senza un reale preavviso Perché sì se ne parlava Ma non sembrava Così rapida la cosa E invece è successo Dall'oggi a domani La squadra si è trovata Completamente spesata Ragazzi fidatevi È un colpo grande Per l'allenatore Che stava lì Che è zompato Tuchel Poi è arrivato Potter Poi possiamo qui Star parlare Delle scelte sbagliate L'aver cacciato Potter subito L'aver cacciato Tuchel Aver comprato Una marea di giocatori Però il presidente Ha provato a risanare Una stagione Che stava andando a picco Perché anche con Tuchel Il Chelsea Stava facendo schifo Parliamoci in maniera chiara Siate sinceri con voi stessi Tuchel Con il Chelsea Stava facendo schifo Da ormai 4 mesi 5 mesi Contando La passata stagione Quindi Il 5 se lo prende tutto Però per me il 4 no Proseguiamo Comunque il Chelsea è finito 12esimo Proseguiamo Andiamo con il Brentford Che per me Il Brentford Se prende Questa è veramente complicata Perché non voglio essere condizionato Da Thomas Frank Sapete che adesso Il mio nuovo pupillo Perché io non guardo i giocatori Guardo gli allenatori Il mio pupillo adesso È Thomas Frank Allenatore incredibile Allenatore che proprio ha Quel Il fatto inglese Ce sa fa Sa parlare Obiettivamente la squadra Ha giocato benissimo Ha concluso nona Con 59 punti Ha praticamente sfiorato L'Europa League È la Conference League Una squadra che No l'Europa League Ha sfiorato il Brentford Ha sfiorato il Brentford Dell'Europa League Sì Una squadra ragazzi C'è poco da di A me è piaciuta tanto Tecnicamente sotto al Brydon Tecnicamente sotto al West Ham Tecnicamente sotto All'Aston Villa Tecnicamente sotto All'Everton Tecnicamente sotto al Chelsea Ma le ha superate tutte Perlomeno Non l'Aston Villa Però le altre Le ha superate tutte Il Brentford Per me è da 9 Stagione esemplare Stagione dove È riuscito a battere Sia l'andata Che il ritorno Il seed È riuscito a battere Lo United Ha fatto male A Liverpool Ha fatto male A tutte le big inglesi Ha giocato bene Ha giocato a calcio Ha giocato a viso aperto Ha Cresciuto Gente come Eury Il terzio sinistro Che ve ne ho parlato Nel top 11 Della Premier League Tony Tanti giocatori Tanti giocatori Sono cresciuti Con Thomas Frank Squadra che sta piano piano Andando sempre più su Speriamo che l'anno prossimo Possa qualificarsi Per una competizione europea Andiamo avanti adesso Con il Brighton Brighton Che anche qui Gli diamo Un bel 9 Se qualifica Per l'Europa League La prima volta Nella sua storia Questo È un lavoro Che non arriva Quest'anno Io sento Tanta gente Parlare del Brighton Sento tanta gente Parlare del Zerbi Ma la gente deve capire Che tutto è partito Da Anni prima Non è solo De Zerbi È state le scelte L'arrivo dei Potter Ha costruito Tanti giocatori Che poi Si sono formati Sì con De Zerbi Ma c'è la mano De Zerbi C'è stata E ci sarà sempre La mano De Zerbi In quella squadra Però è ovvio Che il 9 Gli esita tutto Per i giocatori Enziso Caicedo McAllister Tanti giocatori Fortissimi Che hanno fatto Una stagione Clamorosa Una stagione Ovviamente Da 9 Sopra il Brentford Perché si è qualificata In Europa Anche se tecnicamente Parliamo di una squadra Molto più forte Del Brentford E ci sta pure Però va bene Il 9 È pieno 10 No Per Il fattore Che comunque sia Il 10 È un voto Che È alla perfezione Per me La stagione Del Brighton Non è perfetta Andiamo avanti Con il Fulham Fulham Altra squadra Che io adoro Finita decima In classifica Anche lei ha rischiato Di andare in Europa Fulham ragazzi Non voglio Tagli 9 Perché forse Mi sembra un po' Brentford Il Brighton Però il Fulham 8 Se lo prende tutto 8 Se lo prende tutto Perché arriva decima E fa una bella stagione C'è veramente poco Da dita Il Fulham Ottimo l'allenatore Ottimo Mitrovic William Scende Paligna Quando è arrivato Paligna Tutti e di Non è forte Eccetera eccetera Si è dimostrato Uno dei migliori Quindi l'8 Se lo prende tutto Adesso rimangono Le 5 big Arsenal City Liverpool Newcastle E Manchester United Manchester United Ragazzi Che io gli do 8 Gli do 8 Perché Allora Lo United Arriva Arrivava da una stagione Incredibilmente Negativa Stagione Bruttissima Una situazione Ronaldo Da sistemare Ma Riesce comunque Sì a qualificarsi Per la Champions Vince la Coppa De Lega Arriva Ai quarti Finale Europa League Quella sconfitta Fa ancora male Mi duola ancora il cuore Parlarne E Arriva in finale De Coppa De Lega Poi come le perde Le perde le partite Però Lo United Ha dato una risposta Ai giornalisti E ai medi Voglio ricordare Che Tenag Era L'allenatore Più quotato All'Esonero Quindi Vi fa capire Quanto lavoro Abbia fatto Quest'uomo Per far Ritornare Lo United Non dico Gli albori Ma comunque sia A tornare nel calcio Che conta Quindi l'otto Se lo prende tutto Ne abbiamo già parlato E non me voglio di lunga Troppo Newcastle Che se prende Un 9 Se prende un 9 Perché arriva in finale Coppa De Lega Fa una bellissima stagione Ragazzi Che se lo aspettava Il Newcastle In Champions Io non me lo aspettavo Io il Newcastle In Champions Non me lo aspettavo Ve lo dico con Tutta la tranquillità Del mondo Non me lo aspettavo Mi devo ricredere Newcastle Che merita Sta lì Ovviamente sotto A Brentford E Brighton Perché Ha speso Più soldi Però veramente La Champions Nessuno se lo aspettava Loro hanno risposto Hanno giocato bene Hanno meritato Quindi un 9 Se lo prendono tutto Allora Io direi Dele mamme subito Il sassolino Manchester City 10 Stagione perfetta Quando fai il triplete È da 10 L'unica squadra da 10 De questo campionato Perché? Perché rispetta le aspettative Perché quando tu dai 10 Devi dare 10 Perché vinci tutto quello Che c'era a disposizione Non hai vinto la Coppa di Lega Ma in Inghilterra Non è mai esistita una squadra Che ha vinto 4 trofei Cioè che ha vinto La Carabeo Cup La FA Cup La Premier League E la Champions League Nello stesso anno Nella stessa stagione Quindi Manchester City Che per me Prende un 10 Perché vince il campionato Quindi 10 Vince la Champions 10 Vince la FA Cup 10 10 Più 10 Più 10 La media quanto fa? 10 Quindi Manchester City Il promosso proprio Con la lode Adesso rimangono Le due incognite Quelle più difficili Liverpool e Arsenal Io direi di Andare con il Liverpool Che per me Raga Veramente difficile Perché se riprende Allora Fa una prima parte Di stagione Pessima Esce dalla Champions League In Coppa di Lega Fa cagare In FA Cup Fa cagare Complicato Però è una squadra Ragazzi Che ha deluso Le aspettative Ha deluso Veramente le aspettative Non può essere Da sufficienza Raga Il Liverpool Non può essere Da sufficienza Quando una squadra Come il Liverpool Non vince un trofeo Vabbè Si ha vinto La Comunità di Shield Si Non è paragonabile Alle altre competizioni Quella è una supercoppa Un Liverpool Composto a Salah Mané Esci Mané Salah Diaz Nunez E poi è arrivato Gakpo E c'è Tanti giocatori Jurgen Klopp In banchina Cioè Se non te qualifichi In Champions Sei da 5 Addirittura da 4 Però 5 Perché alla fine Si sono ripresi Però rimane comunque Sì una stagione Insufficiente Andiamo con l'Arsenal Concludiamo con quella Che forse farà più polemica Allora Perde la Coppa De Lega subito Perde la FK Subito Perde subito In Europa League E perde il campionato Prendo la citazione Di José Mourinho Zero titoli Si vantavano Ma stanno con Zero titoli Lo United Ha un trofeo Il Liverpool Ha la Community Shield Il City Ha vinto tre trofei L'Arsenal L'Arsenal Non può stare Vicino allo United Ma non perché Io sia diffuso Allo United Ma perché Vi faccio esempio Con Newcastle Per non parlare Del Manchester United Newcastle Ha fatto la stagione migliore Perché Newcastle Non ha vinto la Premier Come non l'ha vinta L'Arsenal Ma Newcastle Era più scarso In partenza E Newcastle È arrivato in finale Coppa e Lega Quest'altro Non hanno fatto niente A parte puntare il campionato E hanno fallito Hanno fallito Che poi tu sei stato primo Per cinque mesi A me poco mi importa È ovvio Come ho detto i precedenti Io valuto tutta la stagione Infatti sto valutando Il tutta la stagione Non è per me da otto Per me L'Arsenal È da sette e mezzo La stagione dell'Arsenal È da sette e mezzo E gli avrei dato Nove E mezzo Se vinceva la Premier L'Arsenal Che per me Conclude quindi A sette e mezzo Fatemi sapere La vostra Nei commenti Io vi ringrazio Per la visione Di questo video Alla prossima Cente Ciao a tutti Ciao a tutti